Una delle raccolte che vi presentiamo oggi di Lafcalio Hearn è Storie di fantasmi del Giappone che era già stata pubblicata come tante altre sue opere ma in questo caso è una nuova edizione perché è illustrata da Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe è un disegnatore francese famosissimo, bravissimo, che ha pubblicato già anche in Italia diverse storie scritte anche da lui quindi è anche un narratore, è un autore completo, storie bellissime, molto spesso anche un po' gotiche e infatti in questa raccolta di storie di fantasmi troviamo proprio che le storie di fantasmi giapponesi che sono un po' diverse da quelle normali, gotiche a cui siamo abituati, quelle europee, classiche hanno sempre una morale di fondo e i fantasmi giapponesi non sono sempre malvagi anzi molto spesso vengono lì per darti un consiglio, per dirti qualcosa di importante che tu devi sapere e sono storie veramente belle, molto suggestive, narrate con una semplicità e proprio centrando il bersaglio perché comunque raccogliendo queste storie è riuscito proprio con la penna del giornalista quasi a metterle giù quindi diventano veramente affascinanti, sembrano quasi vere da come le racconta e poi le illustrazioni di Lacombe sono qualcosa di meraviglioso, sembrano vive anche se vanno a riprendere lo stile delle xilografie giapponesi tradizionali però vengono rivisitate in un modo eccezionale quindi sono due occidentali che amano la cultura giapponese uno tanto da diventare giapponese anche lui proprio in tutto e per tutto e l'altro da creare dei disegni, delle opere grafiche straordinarie l'edizione meravigliosa perché è questo cartonato con questa incisione insomma molto prezioso, elegante, proprio bello da leggere, da guardare l'editore Ippocampo che è specializzato in questo tipo di storie sul Giappone